Ciao ragazze e benvenute sul canale. Oggi vedete questi prodottini makeup che fanno parte del progetto smaltimento makeup 2022. Siamo qui per aggiornarci su questo progetto. In realtà credo che sia l'ultimo aggiornamento perché sono talmente pochi prodotti che al prossimo video non avrei nulla da farvi vedere. E quindi niente, parto col primo prodotto che ho terminato che è questo di fondotinta di Purofi. Sapete che Purofi è un marchio che io amo, è un brand bio luxury, ma soprattutto è un brand con dei prodotti veramente efficaci, almeno per quanto riguarda la linea skincare, che è quella che ho provato. Questo fondotinta, il Colorful Skin, la colorazione P, come vi dicevo, è un fondotinta che inizialmente mi è piaciuto, tant'è che lo, tra virgolette, lo gentellinavo. Però poi quando ho cominciato ad utilizzarlo quotidianamente mi sono accorta che comunque non andava bene per la mia tipologia di pelle. Quindi io ho una pelle grassa, a tendenza acneica. E quindi si depositava nei pori, mi metteva in evidenza pellicine che non avevo. Pur affettuando degli scrub, dell'esfoliazione, comunque settimanalmente, mi dava sempre questo effetto che non mi piaceva. Ho provato ad utilizzarlo con la spugnetta, ho provato ad utilizzarlo col pennello, ma non c'è stato verso di farlo funzionare. L'ho utilizzato, l'ho portato a termine, però non lo ricomprerò sicuramente, anche perché ha un costo molto molto alto. Credo che stiamo parlando sui 40-50 euro al massimo, anche se io l'avevo preso con lo sconto. Però l'ho provato, non mi è piaciuto e niente, continuo ad utilizzare quello di Sien, che è il mio preferito in assoluto. Poi avevo inserito questo, un rossetto di MAC, che è il Ruby Woo, che ho utilizzato ma non tantissimo. Non credo di riuscire a farvelo vedere. Comunque, ecco, ne ho utilizzato un po', ma ce n'è ancora circa metà. E niente, vedremo se riuscirò ad utilizzarlo, anche perché mi sono resa conto di avere tanti rossi, quindi devo smaltirli. Poi avevo inserito in progetto questi altri due prodotti. Questo è di Kat Von D, il Susperia, che è un rossetto liquido. E questo è il rossetto di MAC, di un'edizione limitata, che è il Dodge Girl. Allora, questo è un colore che non mi sta bene. Mi sono sforzata di utilizzarlo, ma non mi ci vedo, tant'è che non è mai la mia prima scelta. Quindi, onestamente, vado a cestinarli. Tanto questa, comunque, l'ho utilizzata un po', ma stiamo parlando di una mini taglia. E questo lo utilizzerò per il Back to MAC. Quindi, poi, comunque, voglio dire, possiamo dire che l'ho ampiamente utilizzato. Perlomeno non è un prodotto nuovo che vado a cestinare. E poi avevo nel progetto questa qui, la palette di Huda Beauty, la Neon, che era questa dai toni rosa. Quindi vi faccio vedere a che punto sono. E sono qui. Praticamente, sono riuscita a terminare quasi tutti gli ombretti. Mi resta un ombretto shimmer sui toni del rosa e questo ombretto color salmone. E, dopodiché, avrò terminato anche questa palette. Mi è piaciuta, anche se i colori neon non mi hanno fatto impazzire. A parte che non sono così neon rispetto ad altri prodotti che forse erano usciti in commercio di altri brand. Perché so che ci sono dei prodotti che addirittura si illuminano tipo al buio. Quindi, per me quelli sono neon. Comunque, sono colori molto accesi. Soprattutto si vede dopo un po' che li avete applicati. Perché in fase di applicazione sembrano colori quasi normali. Però poi, diciamo, fanno vedere la loro parte, chiamiamola così, neon. Sono ombretti che durano tutto il giorno. Quindi sono fantastici, anche per quanto riguarda la parte shimmer. E niente, però non credo di ricomprarla. Questa, anzi, mi era stata regalata. Però, magari voluterò di prendere qualche altra mini palette di Huda Beauty. E niente, quindi, questo era il mio aggiornamento. Un video molto breve, ma spero comunque di avervi tenuto compagnia. E ci vediamo poi con un nuovissimo progetto. Ciao, ciao!